Ciao tifoso milanista! Benvenuto di nuovo sul nostro canale, il luogo perfetto per essere sempre aggiornato su tutte le notizie del Milan. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere nessun contenuto. Siamo nel pieno della frenetica finestra di trasferimenti invernali, e le squadre stanno cercando rinforzi per potenziare i loro organi. Il Milan non fa eccezione, e il nome di Ahmed Traoré emerge come una possibilità eccitante. Ahmed Traoré, ex attaccante del Sassuolo, si trova attualmente al Bramaut, ma il suo contributo è stato limitato. Di fronte a questa situazione, la possibilità di un cambio di squadra diventa sempre più concreta. Secondo le informazioni di Sky Sport, il Milan sta seguendo da vicino la situazione del talentuoso giocatore ivoriano. Il club rossonero vede in Traoré un rinforzo prezioso per la seconda metà della stagione. Tuttavia, il Milan non è solo in questa corsa. Altri tre club di Serie A hanno mostrato interesse per Ahmed Traoré. Lazio, Fiorentina e Napoli sono in lizza, rendendo lo scenario ancora più competitivo. Ora, la grande domanda è, Traoré andrà al Milan o opterà per un'altra squadra della Serie A? Le prossime settimane saranno decisive per scoprire l'esito di questa storia. Tifoso milanista, che cosa ne pensi di questa possibile acquisizione. Ti piacerebbe vedere Ahmed Traoré nella tua squadra? Lascia il tuo commento e le tue aspettative qui sotto. E con questo concludiamo un altro capitolo movimentato del mercato di trasferimenti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie mille per aver guardato, e ci vediamo nel prossimo video.